Ancora un colpo internazionale per l'amen scuola basketarezzo neopromossa in Serie C Gold. Adesso arriva dalla Serie 2 Argentina Santiago Ezequiel Rodriguez. Si tratta di una guardia tiratrice argentina di passaporto italiano. In Argentina Rodriguez vestiva i colori del centro espagnol. Classe 94 sarà il giocatore capace di infiammare il pala sporta estra con i suoi canestri mettendo al servizio del quintetto retino la sua esperienza nella massima Serie Argentina. Nella stagione appena conclusa il nuovo arrivo in Amaranto ha giocato oltre 17 minuti di media partita con 6 punti e mezzo realizzati prodotti con il 35% da 3 punti e l'84% ai tiri liberi. Le statistiche non tengono però conto che Rodriguez dopo un inizio di stagione in punta di piedi è diventato un autentico trascinatore della propria squadra risultando in più di un'occasione decisivo con le sue triple. Alto 1,87 Santiago sarà la guardia titolare dell'Amen con la duttilità di poter aiutare anche in posizione di playmaker. Dopo Tenev è il secondo innesto per la società Amaranto per il campionato di Serie C Gold che dovrebbe prendere il via il 26 settembre mentre la Coppa Toscana inizierà nel weekend 31 agosto 1 settembre. Sono lieto di dare a Santiago il benvenuto ad Arezzo, ha detto il presidente Castelli. Sono convinto che sarà il giocatore capace di far innamorare il nostro pubblico con le sue giocate e la sua determinazione. È un innesto super per la nostra squadra perché oltre ad essere un realizzatore ha delle qualità difensive e oltre la media. Rodriguez ci porta grande qualità in entrambi i lati del campo e sono certo che entrerà immediatamente nel cuore degli appassionati aretini. Entusiasta anche il coach Millie, Rodriguez ha detto è una guardia realizzatrice che proviene dal campionato argentino di A2 e di conseguenza da un livello abbastanza alto. Giocatore che è partito in punta di piedi pur non essendo il primo terminale offensivo della propria squadra e con il passare delle giornate è riuscito a chiudere la stagione con ottimi numeri, increscendo con la percentuale del tiro da tre punti arrivata al 40% rimanendo in campo tanti minuti. È la prima volta che si confronta col basket europeo ma le sue doti di ottima treta e l'intensità in fase difensiva ci saranno di grande aiuto così come le sue capacità realizzative.